Emozionatissimo Daniele Laurenzi perché bissare il successo di 5 anni fa forse è ancora più importante. Sì, però sono emozionato e sono felice del dato soprattutto dell'affluenza alle urne perché siamo 10 punti percentuali sopra rispetto agli altri comuni. Questo significa che la nostra comunità ha risposto al nostro progetto, si è regata alle urne. I cittadini ci hanno premiato perché il nostro è un progetto credibile, è un progetto amministrativo, non è un progetto politico, è un progetto per la nostra comunità, per il nostro paese, per i nostri cittadini, per la riqualificazione dei nostri luoghi, per la messa in sicurezza degli edifici. Io sono molto molto contento, ringrazio tutti i candidati, io non conosco adesso i dati dei singoli candidati. Però sindaco una vittoria schiacciante sin dai primi numeri. In tutte le sezioni, nelle cinque sezioni, vittoria schiacciante, è questo forse che la soddisfa di più perché di riflesso lei ha messo davanti agli elettori quello che è stato fatto più di quello che forse si vuole fare. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. La nostra comunità ha premiato un progetto, un progetto credibile, di un sindaco uscente credibile, di una squadra uscente credibile, di nuovi candidati 6 su 12 che si sono affacciati e che hanno abbracciato questo nostro progetto civico. Tutti siamo stati credibili rispetto a dei fatti, a degli obiettivi raggiunti e anche rispetto a un programma che noi abbiamo presentato, spiegato bene ai cittadini non solo con il porta a porta ma anche con delle riunioni di quartiere che abbiamo fatto in maniera pubblica all'aria aperta mentre dall'altra parte si sono riuniti dentro i garage e sotto scala di casa con delle provocazioni. Sta togliendo qualche sassolino il sindaco Laurenzi. Sì, perché sono stati 30 giorni molto difficili, perché abbiamo ricevuto degli attacchi a mio avviso gratuiti e anche ingiustificati, abbiamo lavorato tanto in questi 5 anni in condizioni anche difficili, abbiamo salvato la nostra comunità da un progetto di un'azienda che voleva aprire sul nostro territorio un impianto di rifiuti liquidi non pericolosi che detta così è accattivante, abbiamo gestito una fase drammatica insieme alla nostra comunità quella del Covid, quindi su 5 anni se lei toglie 3 è chiaro che il tempo a disposizione è stato poco abbiamo gestito l'ordinario con l'emergenza e lo straordinario, ci siamo riusciti abbiamo raggiunto molti obiettivi e questo progetto nuovo, questo nuovo mandato 2023-2028 la cittadinanza lo ha capito, lo ha compreso, lo ha sposato, abbiamo sentito forte il calore dei nostri concittadini a prescindere dalle appartenenze politiche e questo è un risultato epocale, significativo, perché la sinistra non esiste più sul nostro territorio molte persone che però a livello politico, a livello regionale hanno votato e magari anche perché no andranno a votare il Partito Democratico piuttosto che il Movimento 5 Stelle a livello amministrativo hanno sposato e hanno scelto questo progetto io ringrazio tutti i partiti di centro-destra per essere stati in maniera educata e rispettosa alla finestra, ci hanno appoggiato, hanno sposato questo progetto civico però questo progetto civico è un progetto amministrativo molto più ampio, molto più eterogeneo ci sono diverse sensibilità, diverse appartenenze, diverse rappresentanze e andremo avanti per fare l'interesse esclusivo della nostra popolazione L'ultima sindaco da parte mia, perché poi è giusto anche ricevere gli applausi e gli abbracci dei tanti sostenitori, prima ha parlato di tempo perso causa Covid ecco una cosa non completata durante questi primi cinque anni da completare immediatamente e se ha un sogno futuro da regalare alla cittadinanza di Nereto per un nuovo progetto che partirà appunto nel 2023 partirà oggi, partirà domani, domani mattina forse e finirà nel 2028 La nostra comunità ha premiato le opere ha premiato la crescita che era nelle nostre possibilità dopo tanti anni di immobilismo le grandi opere si sono non fermate ma hanno avuto un processo di rallentamento rispetto comunque dalle procedure di appalto molto articolate all'accrescimento dei costi di alcuni materiali completeremo l'auditorium Falcone Borsellino realizzeremo la nuova scuola dell'infanzia sempre sull'area dell'ex campo sportivo Romeo Menti un progetto con dei fondi certi di oltre 2 milioni e 700 mila euro realizzeremo tante opere sempre con la grande priorità delle strutture scolastiche e anche di quelle sportive sul nostro programma abbiamo messo nero su bianco che il nostro comune deve recuperare un vuoto, un gap quindi avvieremo da subito uno studio per dotare il nostro comune di una struttura polivalente indoor al coperto per il basket e per la pallavolo nel frattempo però completeremo i lavori di messa in sicurezza della palestra, della scuola primaria che comunque è utilizzata anche dalle nostre associazioni e perché no cercheremo i fondi perché abbiamo già provato un progetto per sistemare lo stadio per sostituire il vecchio mando di gioco con un mando in sintetico Perfetto, allora direttore noi ringraziamo il neosindaco il riconfermatissimo sindaco di Nereto Daniele Laurenzi numeri davvero impressionanti in positivo per lui e come ha ricordato lo stesso primo cittadino della città vibratiana una fortissima affluenza che ha sfiorato quasi il 70% degli aventi diritto congratulazioni sindaco e in bocca al lupo e soprattutto buon lavoro Grazie Grazie